Musica Proseguono i lavori per il rifacimento del manto stradale in via del Leoncino, nel centro storico. Le telecamere di Roma Capitale News sono tornate per la seconda volta nel primo municipio per controllare come promesso l'avanzamento dei lavori e verificare che vengano rispettate le tempistiche ipotizzate per la chiusura del cantiere. Gli operai impiegati sul posto stanno ripristinando le guide in basalto, sconnesse e usurate dal tempo. L'opera di riqualifica proseguirà per tutta la settimana e i lavori si concluderanno entro sabato 29 settembre. Stiamo ripristinando le guide in basalto che sono tutte quante sconnesse. Il lavoro proseguirà per tutta la settimana, verrà tutto quanto stuccato con emulsione a caldo e vengono finiti tutti quanti i lavori. Entro sabato 29 verranno completati i lavori di via del Leoncino.